In mesi, in mesi, in fondo salva stati i cari amici, Matteo Renzi e la bella Maria Elena Boschi di Italia Viva fanno tremare il governo Giuseppe Conte, che cosa mai succederà? Io ho la notizia, l'ho letta, l'ho letta, l'ho letta su web e tale notizia ve la metto con il link riassunto di questo video. Italia Viva, Matteo Renzi, il boy di Fiorenza, la bella, bella, bella Maria Elena Boschi fanno tremare il governo Giuseppe Conte per via del mesi, il fondo salva stati, ma ve lo dico io che cosa succederà? Non succederà, non succederà niente, non succederà niente, perché io lo conosco bene il boy di Fiorenza, lo conosco molto bene il boy di Fiorenza, Matteo Renzi, il giglio magico, il giglio magico dove dentro ci sta pure la bella, bella, bella Maria Elena Boschi, la Maria Elena Boschi, non succederà niente, niente, niente. Come si dice, tanto fumo e niente è rosto, tanto fumo e niente è rosto, il fatto è che il boy di Fiorenza, Matteo Renzi, vuole sempre le luci della ribalta, della ribalta, per cui non succederà niente. Italia Viva non vota, non vota però poi, poi dirà sì in Parlamento, perché questo governo non deve cadere e se questo governo non cade, pure i ministri di Italia Viva restano al governo, sino alla scadenza naturale di questo governo, che mi pare che sia al 2025. Parola di Serafino Massoni, Serafino Massoni non sbaglia mai, perché Serafino Massoni lo conosce tanto bene il boy di Fiorenza, il giglio magico soprattutto, Serafino Massoni conosce bene la bella, bella, bella Maria Elena Boschi, quanto sei bella Maria Elena Boschi. Cara, tu, dammi il tuo preciso recapito postale e io ti farò pervenire a mie complete spese questa mia opera storico-mitologica con il mio autografo. Ok Maria Elena Boschi, ok Matteo Renzi, ok Giglio magico di Fiorenza, a voi e a tutti i tanti cari saluti da Serafino Massoni. Grazie a tutti i nostri amici.